Bergamin, benvenuto per la prima volta. Secondo te da Goti questo gioco sì, vorrei farlo sempre il solito discorso che faccio. Per me il Goti non è semplicemente il gioco bello, perché c'è stata talmente tanta eterogenità tra i videogame, tra solo proprio grafiche, gameplay, storie, budget per essere fatti, c'è stata talmente tanta diversità all'interno che non puoi dire questo è più bello, perché non se può, non è impossibile. Per me il Goti deve essere quel gioco che ha fatto qualcosa e secondo me stanno, per quanto è uscita tantissima roba bella da parte Capcom, Nintendo come al solito con Tears of the Kingdom, Armored Core pure, Baldur's Gate è riuscito a fare una roba incredibile, ovvero cacciare fuori dal guscio della nicchia i CRPG. Perché secondo me anche l'Aladian stessa non si aspettava sto scoppio, che poi nicchia un cazzo, perché la nicchia del Baldur's Gate è grossa l'ira di Cristo. Cioè quando io dico nicchia non prendetelo come veramente tre gatte, perché le nicchie del 98 non sono le nicchie del 2023. La nicchia nel 2023 vuol dire che ci stanno milioni e milioni e milioni di persone che giocano a gioco. Quindi quando dico nicchia inteso che non è il gioco mainstream, cioè non è tipo quando uscirà GTA 6 se lo va a comprare anche mia nonna che è morta, gli porto la console nella tomba e va a fanculo. Però ha fatto qualcosa di incredibile, perché questo, se qualcuno mi chiederà da adesso in poi, oh voglio giocare nel RPG dove c'è sta il roleplay figo, il gameplay figo, la grafica figa, le musiche fighe, tutto quanto, io gli darò Baldur's Gate 3. Però sotto il punto di vista tecnico è bellissimo, perché già soltanto io mi sono rivisto per esempio le clip di Dragon Age 2. Cioè raga, i dialoghi tra Dragon Age 2, io ho paura per Inquisition quando lo giocheremo, ti sembrano dei morti, cioè proprio nel doppiaggio, nell'espressività, nell'animazione, sembrano dei morti. Qua sono proprio vivi, cioè ti prende la bellezza del vedere le espressioni che fanno, come reagiscono, come parlano, i dialetti, le lingue. Quindi già sotto quel punto di vista una madonna infinita. Il gameplay è una figata, continuo a dire a tutte quelle persone che hanno detto, eh a turni non lo so, porca puttana è D&D, è semplicemente a turni perché se tu dovessi prendere D&D e metterlo in tempo reale non si capisce un cazzo. L'hanno smussato talmente tanto sotto quel punto di vista, già la cosa per esempio che avete tu e un tuo amico l'iniziativa vicina, tocca a te poi tocca a lui subito dopo, potete agire insieme, non devi aspettare il tuo amico che magari si è andato a far la pisciatina al bagno. Ti puoi fare i cazzi tuoi, puoi buttarti in mezzo. E anche se fosse pure che devi aspettare, è talmente tanto fluido perché hanno aggiunto, ok ci stanno tre nemici insieme vicino, ok agiscono tutti insieme. Col fatto che appunto c'è il regolamento di D&D, c'è quella cosa a base del azione, reazione, azione bonus. Quindi ci stanno quelle quattro cose che te devi gestire, è molto semplice, è molto anche più bello rispetto a un divinity, perché il punto debole di divinity per esempio sono gli api. Ma hai chiesto semplicemente se vincerei il goti? Porca puttana sì. Perché ha fatto qualcosa di incredibile. Non gli puoi dire niente. Io sento tantissime persone che si lamentano, che dicono, ah ci sta il baghettino di merda. È una cosa che mi dà un urto perché poi dall'altra parte ci abbiamo persone che lodano la Bethesda perché gli ha detto, eh tipo Fallout 76 adesso è bello. Sì Fallout 76 è uscito quattro anni fa raga. Cioè in quattro anni meno male che l'hanno fixato. Cioè dall'altra parte abbiamo persone che quando ci stanno i giochi Bethesda dicono, eh no ma è la via di Bethesda. Il fare uscire un gioco buggato come la merda dove puoi fare delle porchettonate incredibili è la via Bethesda. Però se vedono il baghettino de merda su Baldur's Gate 3, che è un gioco che te dà 200 ore de gameplay pregno, de gioco, de roleplay, de ambientazione, de mood e compagnia rompogli i coglioni. Cioè come dica è nata a magna veramente da cracco, ve porta il piatto prelibato incredibile, fantastico che venite soltanto dandogli una sniffata. Però il lampone è spostato troppo a destra. Cracco entra, ti tira una craniata e ti porta a f***to semplicemente. E tra l'altro, adesso che è uscito su PlayStation, un altro sbrego di persone hanno messo anche che ci sta il crossplay su console. Questa che tu dici è una cazzata, porca puttana se non è una cazzata. Non tutti hanno 2000 euro dei PC, tu compri per PlayStation 5 e giochi con gli amici tuoi. L'hanno annunciato poi pure per Xbox. Quindi io spero tra l'altro che facciano pure delle espansioni. E anzi, secondo me le faranno, spero siano come quelle di Baldur's Gate 1 e 2. Perché su Baldur's Gate 1 e 2 erano proprio delle storie, degli ampliamenti. Sarebbe bello se implementassero magari delle campagne epiche. Cioè tipo, giocati questa dopo che hai finito storia principale. E ti fanno andare nei livelli epici, quindi dal 13 al 20. La vedo difficile. Diciamo che se ci fossero soltanto classi milise potrebbe pure fare. E il problema sono gli incantatori, ragazzi. Il problema è che a un certo punto cadono pioggi dei meteoriti, poi esprime i desideri e vai. Succede quel patatrack. Però dei moduli extra sarebbero molto figli. Anche in cui magari ti fanno conoscere personaggi nuovi. Ti fanno conoscere qualche vecchia fiamma dei Forgotten Realms. Dei libri e compagnia. Il gioco finisce a pesare 500 GB, lo dico. Non vuoi farmi una storia con, che ne so, altri 300 personaggi delle origini? Ok? Mi fai una storia dove io mi creo il party. Creo 4 personaggi unici che vanno a giocare la campagna. Non so per quante persone qua in mezzo lo conoscono. Ma per esempio Solasta è composto letteralmente da campagni. Dove tu all'inizio della campagna ti crei il personaggio e te la gioco. Poi per carità, eh, conoscendo la Larian ci si buttano... Cioè io da quando ho scoperto che per 3-4 giorni, o non mi ricordo quanto, la gente si era andata a cercare quanto pesava specificatamente in media una mucca per poter mettere il peso veramente in game, io ho paura della Larian. Cioè per me la Larian può andare a vedere qualsiasi cosa. A questo punto io voglio andare a vedere se veramente il peso medio di una forchetta è quello che hanno scritto perché è spaventosa come cosa. Mièo povella sono fatta, èppietta di Valisbolo e San Martino E lo sta magicando per me quando sono fisgocionati durante un video. Ho Bamb高a всех, sono fiali, abbiamo lo spaventato di Baile. Grazie a tutti.